Il TS del Turismo di Lecce quest'anno, con il suo progetto Tourism Advisor, ha voluto seguire quello che è un nuovo trend di viaggio, un nuovo trend di viaggiatori. Il viaggio è ricercato dagli smart worker, ovvero le persone che non sono più legate a lavorare a un luogo fisico, ma possono permettersi ovviamente di lavorare a distanza. Abbiamo quindi analizzato i bisogni di questi utilizzatori, che cercano ovviamente una buona connessione internet, cercano degli ambienti di lavoro che possono essere in un qualche modo tranquilli e che ovviamente cercano anche di poter conciliare l'attualità lavorativa con il tempo libero piuttosto che con il viaggio. Abbiamo voluto chiamare la nostra applicazione Enjoy It Worker, è un'applicazione proprio dedicata per consentire allo smart worker di visionare queste informazioni in anteprima, prima di fare il viaggio, ed è un'applicazione che sostanzialmente ci consente di esplorare quelli che sono i luoghi della nostra mente, quindi avere delle informazioni di carattere generale su quella che è la struttura, sui servizi che sono resi disponibili, come ad esempio il wifi gratuito, e grazie all'opportunità resa disponibile dalle nuove tecnologie, come ad esempio il virtual tool 360, il lavoratore potrà esplorare le singole camere d'albergo o le hall per capire se queste possono essere più o meno adeguate per la propria attività lavorativa. Quindi tranquille, ma anche semplicemente con uno sfondo adeguato per sostenere una conference call, quindi senza che si veda il letto, senza che si veda l'armadio o senza che si veda la cucina. Ecco, noi speriamo che questa applicazione possa ampliare l'offerta turistica, intercettando quello che è un nuovo viaggiatore, il viaggiatore del nuovo millennio.